buongiorno a tutti da catania creativa la vostra monica tomasello anche questa volta qui in giro per catania stavolta però siamo qui perché abbiamo deciso di intervistare gentilmente si è concessa anna castiglia anna castiglia è una giovane cantautrice originaria di catania anche se ormai vive a torino ora ci racconterà meglio come perché ha deciso no questo spostamento a torino e è la figlia di del grande giuseppe castiglia però non vogliamo parlare di questo perché anche se è figlia d'arte lei ha tutte le carte in regola veramente per per essere considerato un artista a tutti gli effetti di sua ultimissima uscita proprio fresco fresco il un suo singolo io mi si dio allora questa canzone bellissima voce la sua questo questo sicuramente ma poi ha delle sonorità bellissime di quelle che ti entrano dentro le orecchie di quelle che ti alzi la mattina e ti canticchia nelle orecchie questa canzone a me è capitato stamattina così perché siccome ieri ho guardato un po di tuoi video quindi questa canzoncina stamattina io mi si dio a fare i puppetta fra l'altro andiamo al dunque anna tu nasci a catania e decidi di trasferirti a torino poco più che diciottenne a 18 anni come ci racconti meglio questo passaggio che reputo sia fondamentale mi sono trasferita subito dopo il liceo perché sia io che mia sorella abbiamo deciso di intraprendere una strada artistica quindi i nostri genitori non erano tanto d'accordo mia madre sì tantissimo mio padre un po meno perché fa questo lavoro e quindi era molto preoccupato proprio perché conosce le conseguenze e i pericoli del mestiere però ci siamo trasferite con il loro appoggio alla fine io per studiare in un'accademia di musical quindi canto danza e recitazione nella quale mi sono diplomata e mia sorella è in un'accademia di circo contemporaneo quindi è un'acrobata e adesso vive a parigi sempre per continuare con questa strada da lì però a torino conosci un mondo diverso da quello che c'è a catania soprattutto per quanto riguarda la musica dal vivo lì è pieno di cantautori e locali in cui i cantautori possono esserlo perché magari qui a catania suonavo ho iniziato a 15 anni però non potevo fare le mie canzoni era più un sottofondo un piano bar di cover fare la mia canzone era già una cosa assurda invece a torino ci sono proprio spettacoli di cantautori cantautrici e quindi lì ho capito che posso farlo come lavoro che è un lavoro e cerco la passione in altre storie d'amore tra fantasie non proprio del mio cuore però se penso che tra noi deve finire mi paralizzo ho paura di soffrire se fossi stata come le ragazze alla mia età avrei saputo meno che vivendo la realtà ma scuola sono stata una tipa dirigente così che e bovari era l'amica più presente la dame che fuì della vita di provincia e sono la vita per boire sa renaissance 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 se penso che tra noi deve finire mi paralizzo perché non so scegliere che peggio di mi paralizzo scelgo di non scegliere che peggio di mi paralizzo ho paura di soffrire Diciamo che sono in debito con la città di Torino anche se Catania sarà per sempre la mia ispirazione infatti il primo singolo che io mi si dio è una carta d'identità dice subito che sono siciliana però è stato girato a Torino anche il video quindi fai vedere palesemente che c'è la pioggia che non c'è per nulla il sole tutto quello che c'è a Catania invece però comunque ho scelto di vivere lì perché le opportunità artistiche sono molto più ampie sono una vittima eclettica e non escludo la politica la musica assoggettata dagli errori della fisica vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono scrivo le linee sul diario quello pubblico solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa per innaffiare questa per innaffiare questa mia calamità grazie però a un certo punto c'è stato il lockdown l'hai passato lì a Torino? no, sei... ah no, dove eri? ero in Veneto ero in Veneto perché appunto io facevo le lezioni di danza online e casa mia era davvero davvero piccola allora una mia amica ha detto ma vieni a casa mia tanto durerà due settimane massimo facciamo le lezioni lì facciamo danza che è più grande sono stata tre mesi in questa casa stupenda in Veneto che era anche una casa famiglia quindi eravamo in sette, otto, bellissimo sono stata tre mesi lì difficile perché lontana da casa in un'altra famiglia in una condizione per nulla di vacanza cioè chiusi in casa però devo dire che è stato molto piacevole conoscere le Dolomiti un altro tipo di paesaggio totalmente quindi in qualche modo il lockdown ha avuto i suoi aspetti tra virgolette positivi in quanto ha nuova esperienza comunque quindi prendiamo il positivo ecco diciamo così quanto ha influito Catania e quanto ha influito Torino nella tua formazione musicale nella tua maturità artistica allora devo dire che si sente chi viene dal sud a livello artistico quando si canta quando si recita e quando si scrive si capisce se qualcuno arriva dal sud o se invece arriva dal nord quindi devo dire che mi sono portata dietro queste origini si capisce anche solo in una canzone che è in italiano che io vengo da Catania me lo dicono non so perché ma si capisce come io lo capisco quando sento altri cantanti che magari cantano in italiano e dico boh secondo me sono del sud c'è un modo diverso di approcciarsi un'indole diversa non è meglio nemmeno peggio sono proprio diverse Torino invece devo dire che la mia formazione proprio vocale e musicale anche se ho iniziato a studiare qui i miei insegnanti proprio perimi sono di qui Andrea Azzurra la mia insegnante di canto è bravissima i miei insegnanti di chitarra classica di quando avevo 9 anni Danilo poi Mario Indaco del gruppo dei fratelli Indaco mi hanno formato però lì ho avuto modo di fare la gavetta proprio dal cantautore qui ovviamente in tutti i locali di Catania sai la gavetta davanti al pubblico però proprio conoscere il mestiere del cantautore a Torino è perfetto c'è proprio un'università della musica come si vive a questo punto siamo curiosi questo entroterra musicale torinese come accoglie anche quelle che sono le nuove leve non necessariamente del sud in generale allora non è facile inserirsi nel panorama cantautorale perché c'è molta competizione soprattutto se sei nuovo c'è già una base una storia gente che suona da 10 anni però devo dire che è una città molto intima a differenza di Milano che è molto dispersiva Torino è molto più facile cioè ti se riesci ad entrare nel panorama ti conoscono tutti ed è bellissimo ti senti molto accolto ovviamente ci sono quelle situazioni in cui ti chiamano a suonare solo se conosci qualcuno se hai fatto quello cioè è difficile come in tutte le realtà però c'è una realtà e questo è da considerare perché qui non c'è purtroppo quindi molto accogliente devo dire durante il lockdown torniamo un attimo indietro è stato un periodo fertile anche hai scritto qualcosa? sì c'è stato il periodo più fertile della mia vita solo il primo il secondo lockdown depressione totale ma basta il primo sarà un esperimento vediamo cosa succede cioè stai a casa da solo per la prima volta ho scritto le canzoni nuove che non vedo l'ora di pubblicare cioè le canzoni più nuove più rappresentative sono quelle che ho scritto durante il lockdown adesso ho sacrificato Umi CdU perché mi sembrava giusto far vedere cosa sono stata tre anni fa quando la mia maturità non era ancora questa la mia maturità musicale però devo poi rimettermi al passo e pubblicare quelle nuove se no mi sa che ce n'è una se non mi sbaglio che parla di Gali allora spiegaci un attimo questa cosa Gali è una canzone anche che ho scritto durante il lockdown infatti c'è una piccola citazione al virus cioè si chiama Gali non perché parla proprio del trapper ma perché è un inno alla colpa no? parla di le persone che darebbero la colpa alla qualunque pur di non prendere le responsabilità eh se non lavoro è colpa degli egizi che hanno conservato la chiave del lavoro c'è una cosa così come i cantautori si lamentano del fatto che se non ci ascoltano è perché ci sono questi nuovi trapper no se non ti ascoltano è perché non ti sai far ascoltare povero Gali quindi ho preso lui come caprio spiatorio per tutti i trapper e dire per colpa vostra nessuno ci ascolta adesso faccio trappa anch'io così mi ascoltano cioè così è colpa degli egizi che hanno deglutito la chiave del lavoro dell'organizzazione e con l'indigestione i succhi l'erosione la chiave arrugginita non aprirà il portone e i poveri cantautori si vendono nell'app ma fanno pochi ascolti per colpa della trap per questo ho fatto cambiamenti un po' brutali adesso il mio modello è Gali se non temo più è colpa dei tuoi mi chiedono sempre che fai dico che è colpa di Freud il suo sogno è l'amore che non darò mai Vasco ritiene che è colpa di Alfredo se la sua tipa è rientrata con negro mia figlia è affetta dall'anoressia ma di sicuro non è colpa mia l'inquinamento è colpa del vento è troppo forte e non sento io non mi pento del mio atteggiamento è colpa del ciclo l'ammetto non ho una vita sociale ho preso il corona virale se ottengo qualcosa è merito mio ma se la perdo è colpa di Dio e qual è il tuo genere musicale prediletto così come ascoltatrice a questo punto allora io credo che i generi non esistano più perché durano uno due anni massimo però non c'è un genere vero e proprio ovviamente facciamo che che divido da straniero italiano io ascolto per lo più musica italiana e non è un bene prima forse ascoltavo molto più internazionale però adesso sono davvero appassionata perché vorrei aggiornarmi su quello che voglio fare anch'io cioè vorrei entrare in quel flusso quindi mi aggiorno tantissimo su quello ovviamente i cantautori li seguo tantissimo ultimamente se posso farti qualche nome sto cercando di aggiornarmi per essere giovane sto ascoltando un po' di Venerus Gioantielle Gaemon quelli proprio attuali freschi di adesso e devo dire che non mi dispiacciono ok concludendo cosa ti manca di più perché dai qualcosa ti manca allora una cosa in particolare che ti manca della tua terra è che rimpiangi devo dire l'accoglienza l'indole e di conseguenza tutto anche il cibo fa parte della mentalità il fatto che qui si possa mangiare facilmente e con poco è perché noi siamo così facili e invece questo mi manca proprio a volte anche anche il marcio no? tutte queste rovine mi mancano tantissimo l'indole a volte mi manca terribilmente è la stessa che poi mi fa arrabbiare però è quella che proprio mi manca e poi boh l'aria proprio etnea e poi come diceva un grande lo sgruscio romari no? esatto assolutamente quella è la cosa principale le mie canzoni hanno tutte la parola mare tutte c'è umari che ama basta campari umari voglia di tonnari domani fossi sull'andomari mi facessi annacari pinzonnari ma c'è umari che ama basta ristari umari voglia di lamuri domani non potessi natari mi facessi affonnare i dome mari grazie moltissime Anna e buona fortuna per tutto grazie Monica e grazie a Catania Creativa sostenetela perché è rara questa cosa c'è un bellissimo progetto grazie ancora grazie a te non c'è un bellissimo progetto non c'è un bellissimo progetto non c'è un bellissimo progetto grazie a tutti cominciare grazie a tutti Quando si arrocca e si sono i mali, Catania si incazza e diventa un cane. Catania non occupa, capiti castani, i labbracarnusi e l'occhi ruffiani. E quando li sapri lontano tu gli uomini, la sua voce d'angelo, i ricitori. Catania è amigliata, già già tanti belli, sa giocca e si fettina per il foresterno. E quando un canconcio tu si definisce, Catania romanta lì, finirizzo. Musica, c'è musica, Catania balla, e scucca un cappetta a tali alla. Chi bello petto, chi formi, Catania già non dormi. Musica, c'è musica, Catania sona, e se in do mezzo qualche ruolo stona. Fa una battuta schizzosa, Catania spiritosa. Ma io mi senti io a fare i buffetta Ma basta famiglie vengliare a sacchetta Ma io mi senti io a fare i buffetta Ma basta famiglie vengliare a sacchetta Ma basta famiglie vengliare a satiã.